Una donna ha dato in escandescenza nel tappo pomeriggio di oggi, intorno alle 17. Il fatto è accaduto all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. I volontari della Porziungola e gli stessi frati hanno allertato i carabinieri della compagnia comando di Assisi a seguito del Maggiore Marco Vetrulli. C'è una donna che urla in chiesa, hanno detto all'operatore, luogo di culto, sensibile, dato i tempi che corrono ci vuol poco ad immaginare un possibile attentato. In questi casi scattono i controlli antiterrorismo con la squadra di supporto di Assisi. I militari dell'arma dopo essere entrati in Basilica si sono resi conto che invece si trattava di una persona con seri problemi di salute. I carabinieri l'hanno tranquillizzata, mentre nel frattempo è stata fatta arrivare, attivata dalla centrale unica del 118 del Santa Maria della Misericordia di Perugia, un'ambulanza. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta, solo attimi di panico.